Il primo impatto è positivissimo, nel senso che è stato positivo con la proprietà, con il direttore, con Roberto e Muzzi. È stato un impatto bello, però all'inizio è tutto bello, poi quello che è importante è che dovremmo fare i fatti noi. Noi come gruppo, con lo staff mio, gruppo squadra, dobbiamo rispondere con i fatti. Le parole poi hanno il significato che hanno, contano i fatti sul campo, è quello che noi proporremo alla città, ai tifosi. Conoscendo poi l'attaccamento che hanno i tifosi, è proprio il popolaritino, proprio verso la propria squadra. È un attaccamento morboso che va al di là e noi dovremo essere pronti a portarli dalla nostra parte, a coinvolgerli, a farli capire che noi faremo del tutto, perché loro possano essere orgogliosi di noi. È un calcio propositivo, un calcio che deve raggiungere, se è possibile, il risultato tramite il gioco, l'esaltazione proprio del gioco, perché chi viene e chi viene a vedere uno spettacolo, deve vedere uno spettacolo godibile. A prescindere dal risultato che poi rimarrà il nostro obiettivo, perché se faremo la D, noi avremo solo l'obiettivo di vincere e sappiamo che vincere è sempre la cosa più difficile. Le sfide che mi sono sempre piaciute, anche partendo dal basso, come quest'anno che ho avuto a Carbogna, una squadra del profondo Sulcis, che erano 30 anni che non facevano un campionato di D, mi piacciono queste sfide. È una sfida che mi rende forte, mi motiva giorno per giorno. Noi, penso tutto, gli esseri umani, gli uomini, devono essere motivati a far bene tutte le cose che fanno. Per me è un grande motivo d'orgoglio ed è un onore essere l'allenatore dell'Arezzo. Non conta la categoria, conta che è una piazza importante, è una piazza sanguigna, come piace a me. Capisco anche un filo di diffidenza che c'è in questo momento e dovremo essere bravi, come ripeto io, lo staff e tutta la squadra, a fargli capire che noi sanno ci saremo e loro saranno orgogliosi di noi. Ho visto dall'altra parte una voglia della proprietà, di dirigenti, una voglia incredibile di riprendersi quello che hanno lasciato qui. L'amore verso anche questa maglia e questa città che hanno provato e ci hanno messo la faccia. Per me è qualcosa di incredibile nel mondo d'oggi e soprattutto nel mondo del calcio.